Voga 2016, genere musicale preferito? Beh, se mi avessero fatto questa domanda qualche anno fa avrei risposto sicuramente, a occhi chiusi, la musica leggera e a parte quella italiana, perché non mi piace tantissimo ascoltare musica italiana, ascolto pochissima musica italiana e di alcuni autori molto selezionati. Però nel tempo, soprattutto nell'ultimo periodo, ho cominciato ad approfondire la mia conoscenza con moltissima musica elettronica, soprattutto adesso che sto lavorando al format MusiTube, sto ascoltando molti autori di musica elettronica e devo dire che ho trovato della roba orecchiabile, della roba molto piacevole da ascoltare, quindi sta un po' cambiando il mio genere. Se prima era relativamente di musica leggera, adesso ascolto moltissima musica elettronica, quindi sicuramente questo. Almeno questo è il mio genere musicale, comunque genericamente sono molto aperto all'ascolto musicale, ogni tanto ascolto le radio commerciali, ascolto anche la musica commerciale, mi piace spaziare. E tu, invece, qual è il tuo genere musicale preferito? Fammelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Vogue 2016, noi ci vediamo domani!